Sono molto contento di poter parlare oggi al summit dell'InsurTech Association perché credo che questo sia un momento molto importante nell'evoluzione e nella storia del nostro paese e siamo alla vigilia di un momento in cui ritornerà ad essere possibile pensare al futuro in maniera consistente. Veniamo da tanti anni in cui nel nostro paese non sono stati possibili investimenti e praticamente dal 2000 che nel nostro paese non si investe attualmente abbiamo una grandissima opportunità che è quella che è rappresentata dai fondi del PNRR. Per noi, settore dell'InsurTech, il PNRR può essere una opportunità infinita se il paese sarà in grado di investire questi soldi nella maniera più corretta. Credo che l'InsurTech abbia un senso unicamente se riusciamo a comprendere come ci debba essere un collegamento estremamente forte tra gli sviluppi, le applicazioni che noi pensiamo e realizziamo e il mondo della ricerca. I fondi del PNRR devono, a mio avviso, essere investiti non in maniera dispersa sul territorio ma devono essere concentrati in pochi punti nei quali possa diventare possibile quello che è il motore dello sviluppo economico che è il trasferimento tecnologico. Io credo che il settore InsurTech abbia un senso proprio come uno dei motori di questo cambiamento e di questo sviluppo, come una cinghia di trasmissione dalla ricerca al mondo della produzione del cambiamento tecnologico. Il cambiamento tecnologico e le nuove applicazioni che noi sviluppiamo non possono essere singole idee che vengono a qualche genio o a qualcuno che si crede particolarmente brillante. Abbiamo bisogno di una infrastruttura potente che possa supportare e che possa mettere in dialogo la parte della ricerca pura con la parte della ricerca applicata che noi rappresentiamo. Le nostre capacità di sviluppo, la nostra capacità di creare unicorni dipende in maniera cruciale dall'esistenza di un framework di questo tipo. Voi sapete che in Italia ci sono pochi centri nei quali la capacità di calcolo sia concentrata. Uno di questi è sicuramente Bologna, dove è concentrata nel nuovo tecnopolo l'equivalente dell'80% della capacità di calcolo del paese. A Bologna esiste anche un collegamento molto forte con il CERN, che è rappresentato dal fatto che c'è una parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sul quale è stata basata parte delle ricerche che sono andate avanti al CERN negli ultimi anni. Quindi è un polo nel quale esiste una ricerca di base molto sofisticata ed esiste una capacità di calcolo e quindi un'infrastruttura di calcolo estremamente potente. Io credo che nei prossimi anni gli investimenti che dobbiamo fare debbano essere in capitale umano, in capacità, in knowledge che deve essere messo a disposizione del trasferimento in oggetti, in applicazioni che trovano la loro fonte prima di ispirazione in questi grandissimi progetti europei ma che poi si declinano in cose molto concrete che sono le cose che tipicamente delle start-up, il mondo dell'insure tech, è in grado di fare. Quindi investimento in capitale umano che sia in grado di sviluppare software. C'è uno slogan che mi permetto di citare, una frase che mi permetto di citare che è stata famosa qualche tempo fa. It's all software, stupid. Tutto quello che facciamo noi è software. Dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo essere consapevoli del fatto che per farlo ci vuole il capitale umano che abbia la formazione giusta per poterlo realizzare. A Bologna, oltre alla presenza di un polo di calcolo molto importante, è sorta da qualche anno, IFAB, che è l'International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence, che noi crediamo di nuovo possa diventare un punto di accumulazione per fare in maniera tale che le forze migliori del Paese possano cimentarsi in questo processo di trasferimento tecnologico. IFAB sarà sicuramente una guida in questo e attualmente trova come rappresentanti e soci fondatori Unipol Sai e dall'altro lato Eni insieme con tutto il polo della ricerca scientifica italiana. Leita e il gruppo Unipol giocano un ruolo importante all'interno di questo processo, hanno investito in maniera pesante nella formazione di capitale umano. Leita è l'esempio di InsurTech che il gruppo si è voluto dare, un'azienda interna al gruppo in cui sono concentrate forti competenze e forti capacità di sviluppo di applicazioni concrete, che non siano giochini o idee più o meno brillanti, ma siano interventi pesanti e mirati sull'infrastruttura tecnologica e sul modo di farla lavorare. Vi ricordo che poche settimane fa il Presidente dell'Ivas, nel ricordare nelle sue considerazioni finali, nelle sue relazioni annuali, nel ricordare quelli che sono gli obiettivi importanti da tenere presente per il sistema assicurativo, ha messo in primo luogo il fatto che il sistema diventerà capace di fare innovazione, di fare trasferimento tecnologico, di servire meglio i propri clienti, quanto più sarà in grado di strutturarsi, di darsi un'infrastruttura leggera ed agile, come è tipica del mondo attuale, per portare avanti soluzioni e sviluppi. L'attenzione all'infrastruttura, l'attenzione agli investimenti a modernamento complessivo dell'infrastruttura delle diverse compagnie e quindi la possibilità di essere anche più aperti al mondo dell'insurtech per accettare e per ricevere innovazione è sicuramente uno degli elementi cruciali su cui si giocherà la sopravvivenza del nostro settore nei prossimi anni.